A partire dal 3 giugno confermata anche in Abruzzo l'apertura della piattaforma di poste italiane per raccogliere le adesioni alle vaccinazioni per gli under 40 fino ai 16 anni. Tra oggi e domani verrà anche definito come gestire le somministrazioni nelle farmacie e nelle aziende. In Abruzzo il piano è pronto ma è probabile che si comincerà dopo il 3 per raccogliere le manifestazioni di interesse delle aziende, molte delle quali comunque hanno già predisposto i locali per le somministrazioni ai propri dipendenti. L'Abruzzo è pronto, l'ha dimostrato, l'ha dimostrato in questi mesi, lo sta dimostrando negli ultimi giorni, insomma oramai siamo a pieno ritmo. La situazione dei vaccini devo dire che stiamo andando benissimo, siamo come dico sempre ampiamente sopra il valore target di Figliolo, abbiamo recuperato, siamo all'incirco un punto sopra la media nazionale e mantenendo questo ritmo sicuramente arriveremo all'obiettivo magari anche con qualche giorno di anticipo. Ci stiamo preparando alla vaccinazione di massa perché il 3 saranno aperti i target dalle categorie per ora 16-39, poi è possibile che ci siano anche le categorie diciamo l'età inferiore, ora l'EMA sta valutando dai 12 anni in su. Nello stesso tempo partirà anche la vaccinazione nelle aziende attraverso una manifestazione di interesse nei prossimi giorni, daremo il via così come anche partirà nei prossimi giorni la vaccinazione nelle farmacie. Sempre il 3 giugno a livello regionale prenderà anche il via la campagna di vaccinazione sui maturandi. Il primo maturante sarà vaccinato il 3 giugno perché del 3 si partirà in linea generale alle 18 in tutta la regione.